di produzione culturale, che socializzi, ha un pensiero altro, un'immaginazione altra e che riallondi, come dire, quelle famose emozioni timotiche, anche perché fra l'altro noi siamo stati anche per anni, forse per secoli, queste passioni sono state tenute un po' nascoste, come emozioni pericolose, come emozioni antisociali, l'orgoglio, la soferbia, l'ira, anche a scuola ci hanno insegnato che l'ira del peli di Achille è vero che addusse molti di tutti agli Achei, però è anche vero che c'è l'ira di Ajax, che nasce dalla vergogna di non essere andato in battaglia e quindi c'è anche quella della virtù coraggiosa. Allora c'è stata tutta, nei secoli, una esaltare invece, appunto, io dico le virtù passive, mentre invece queste timotiche sono state tenute un po' sotto controllo e forse è ora di liberarle. Eh sì, c'era anche chi fino a qualche tempo fa ci invitava, per chi si vergognava di queste cose, invece ribaltava la vergogna, dicendo vergognatevi, non volete bene al vostro paese, dicendo queste cose, rilevando queste storture. Ecco, diciamo che vorrei concludere, prima di farle un'ultima domanda, con un altro grande vecchio, Pietro Ingrao. Nel libro, siccome, diciamo, quando mi hanno parlato di vergogna, sapendo che c'era lei, mi sono dovuta preparare. E allora ho letto anche questa intervista di Maria Luisa Boccia e Alberto Olivetti a Ingrao, anche lui, diciamo, un giovane vecchio, un novantenne anche lui. Allora, lui sostiene che indignarsi però non basta, che per conseguire un risultato, leggo tesualmente, occorre orientare forze, verificare i modi. I sentimenti dell'indignazione e della speranza restano inefficaci senza una lettura del mondo e una pratica politica che gli dia corpo. Ecco, crede che lo torniamo, io, vuol dire, ammiro fortissimamente il Grau per tutta la sua vita e quello che dice, però qua ritorniamo di nuovo, allora che stiamo a aspettare sempre, vuol dire, che ci sia tutto il teoroimino pronto e senza il quale non si può fare nulla. E non si dà voce a chi invece sceglie comunque a strade diverse, strade diverse, che non è detto che oggi, che domani. Tra l'altro c'è chi su internet gira un manifesto firmato da molti intellettuali che si chiama democrazia globale e che io ho trovato molto interessante, proprio perché è un manifesto utopico. Allora forse bisogna anche cominciare a rispolverare un po' di utopia e non sempre chiederci quanto è realistico. Volevo chiederle, diciamo, tornare un po' al tema della nostra introduzione, cioè del nostro festival. A proposito delle parole necessarie e anche delle parole smarrite, lei ce la può suggerire qualcun'altra contra l'indignazione? Ma guardi, a me piace, mi piace moltissimo la parola insieme, proprio perché è diverso da solidarietà. La solidarietà ha delle implicazioni forse anche di eccesso di volontarismo e di nuovo può portare ad una inclinazione completamente individuale. Io posso essere solidale con, ma mi piace invece molto la parola insieme, che vuol dire fare le cose insieme. Tra l'altro anche su questo ho citato ultimamente un bellissimo libro di Richard Sennett, che si chiama Tutti insieme. Mi piace la, lo devo dire in inglese perché non abbiamo una parola, la togetherness, cioè lo stare insieme e fare le cose insieme. Il far società. Ecco, far società vuol dire ogni forma di aggregazione va, quindi è valorizzata e d'altra parte lo vediamo anche noi sotto i nostri occhi in questo momento di crisi in tutti i paesi, ma lo vediamo anche in Italia, in Grecia, in Spagna. Se qualcosa si muove, si muove lì dove soprattutto i giovani si mettono insieme, fanno delle cose, si inventano delle cose. E quello stare insieme è la loro creatività. Quando le persone sono state insieme hanno veramente, hanno prodotto qualche cosa di buono. Prima di chiudere, e ti ringrazio naturalmente la professoressa perché è stata, io vi consiglio davvero di leggere questo libro perché ci sono moltissimi spunti. A me ha fatto pensare molto il sottotitolo Metamorfosi di un'emozione e diciamo spiega un po' come stia cambiando la nostra società e quanto ancora le emozioni siano importanti. Dicevo, quando si sta insieme vogliendo proprio il senso da quello che lei diceva, nascono delle buone cose. Il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo. Io, diciamo, volevo leggervi e ricordare a tutti, sicuramente la conoscete tutti, però lo ricordo innanzitutto a me stessa. Alcuni articoli che riletti sanno di poesia ma poco di realtà, nel senso che mi piacerebbe che la mia generazione forse non è stata capace di metterli in atto, ma speriamo nelle nuove generazioni che rileggendoli ne colgano a pieno tutto il significato. Per esempio l'articolo 1 dice che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali, in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. L'articolo 3, vado un po' saltando, dice che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. All'articolo 13 si dice che ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e ogni individuo ha diritto di lasciare a qualsiasi Paese, incluso il proprio e di ritornare nel proprio Paese. E ve ne leggerò ancora un altro che ha a che fare con i nostri problemi. Volentieri. All'articolo 23 si dice che ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo senza discriminazione ha diritto a uguale retribuzione per uguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata se necessario da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. E infine l'ultimo, articolo 25. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere del proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. E ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale. È l'auspicio che ci diamo almeno di poter realizzare queste cose nel futuro. Professoressa a lei. Sì, vorrei anch'io, perché una delle cose più belle forse di questi incontri è quello di sviluppare appunto una serie di stimoli perché si leggano altre cose che rimandano a loro volta e altre cose e così via. Allora io volevo concludere questo brevissimo discorso sulla vergogna e l'indignazione, citando invece Martha Nussbaum, il quale dice la persona che si vergogna si allontana dalla comoda convinzione narcisistica che tutto vada bene all'interno del proprio mondo e riconosce le giuste rivendicazioni avanzate dagli altri sul suo tempo, i suoi sforzi e il suo denaro. Invece di proseguire indisturbata sulla sua strada, la persona riconosce il fatto di non essersi accorta della realtà che tocca la vita degli altri e compie un passo, per quanto esitante, per uscire dal narcisismo e coltivare una sottile interazione con il prossimo. E viva l'indignazione! Grazie! 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 Grazie!